La 69esima mostra del cinema di Venezia è ormai giunta quasi alla fine, con le ultime due pellicole presentate oggi in concorso. Un giorno speciale di Francesca Comincini e Passion di Brian De Palma. Il film di Brian De Palma è un remake molto libero del francese Cram d'Amour diretto da Alain Cournot due anni fa ed è incentrato sul morboso rapporto che si viene a creare tra due businesswomen sullo scenario spietato degli affari internazionali. Christine esercita il proprio controllo sull'adorante Isabel e la trascina sempre più a fondo in una spirale di seduzione e manipolazione, dominio e umiliazione. Rachel McAdams e Noomirapass sono le due sensuali interpreti di un thriller in cui si sprecano i riferimenti ad altre pellicole dell'autore americano, con rimandi al solito amatissimo Alfred Hitchcock. In sala stampa un Brian De Palma non particolarmente loquace, ha spiegato di aver addirittura migliorato l'opera originale, sfruttando due attrici con una grande chimica. Un giorno speciale di Francesca Comincini si evolve attorno ad una giornata particolare, quella che segna l'incontro tra due giovani sconosciuti, una ragazza che sta per recarsi ad un colloquio di lavoro con un politico e il ragazzo che deve accompagnarla sul posto in auto. Tra contratempi vari, i due avranno modo di conoscersi meglio e di ritrovare il valore delle loro esistenze. L'autrice in sala stampa ha spiegato di voler toccare temi pesanti, come l'incertezza lavorativa e la possibilità di scendere a compromessi, raccontandoli però con leggerezza e racchiudendoli in uno spazio temporale ristretto. Presentato fuori concorso anche il thriller tedesco Forgotten di Alex Schmidt, nel quale due donne, che erano state molto amiche da bambine, si ritrovano da adulte a trascorrere qualche giorno di relax insieme, come ai vecchi tempi. A tormentarle, nell'isola delle vacanze, una tragedia sepolta nel passato, che ha sognato per sempre la loro vita. Nella sezione Orizzonti sono stati presentati Three Sisters, storia di tre sorelline che vivono in un villaggio rurale cinese, l'iraniano The Paternal House, incentrato su uno spaventoso delitto d'onore e su come questo abbia pesato sulle varie generazioni di una famiglia, e il russo Me Too. Grazie a tutti.